Sono Antonio Tamarazzo, responsabile delle soluzioni video professionali per Sharp Italia. Anche quest'anno Sharp presenta tutta una serie di soluzioni innovative e abbiamo diverse aree che vanno ad evidenziare le possibilità di utilizzo. Siamo nell'area dedicata al 4K dove Sharp presenta i nuovi prodotti con tecnologia IGZO che permettono di avere una visione ottimale della qualità Ultra HD grazie a questa tecnologia che permette di avere dei micropixel. I prodotti in evidenza sono il modello PNK321 e il PNK322 che ha in più una funzione touch. Siamo nell'area retail di Sharp, grande attenzione anche quest'anno sui grandi formati. A mia sinistra vedete il PNR903, un monitor da 90 pollici con tecnologia Full LED. L'altro prodotto particolarmente importante che possiamo visionare anche quest'anno è il PNA601 che è un prodotto estremamente luminoso da 2000 candele. Anche quest'anno i prodotti vengono presentati in abbinata con Software House, sono ospiti presso il nostro stand la Sedna e l'HDDS che sono i principali partner per questo tipo di soluzioni. Per quanto riguarda le soluzioni Office, Sharp presenta quest'anno la Next Generation Big Pad. Si tratta di prodotti che si affiancano alla serie precedente, i tagli sono da 60 e 70 pollici e sono dei prodotti che presentano delle novità importanti sia per quanto riguarda l'applicativo in dotazione sia per quanto riguarda le possibilità multi-touch. 60 pollici, 1500 candele di luminosità, il PNV602 di Sharp rimane tutt'oggi il prodotto migliore per soluzioni VDW. Grazie a tutti.